amici radioascoltatori benvenuti alla prepartita a che go live prepartita e siamo in nel vivo della prepartita di salernitana a benevento andiamo a leggere prima le formazioni che sono 4 4 2 con per la salernitana piero terracciano in porta poi in difesa gabriele perico luis felipe ramos marchi alessandro bernardi luigi vitale a centrocampo riccardo in prota massimiliano busellato francesco della rocca antonio zito e in attacco massimo coda e alessandro rosina questa è la formazione per la scuola giuseppe san nino che ha a disposizione lorenzo la lavarone ronaldo gioa silva alfredo donna rumma giuseppe caccavallo marco di bertino a mi che il gli adis giovanni angelis mentre per il benevento la squadra allenata da mister marco baroni c'è in il 4 2 3 1 in porta pierre graziano gori in difesa lorenzo venuti emanuele padella fabbio luccioni enrico pezzi poi a centrocampo raman chi basso e daniele buzzegoli in attacco fabbio melara amato ciciretti e nicola iacchi moschi in attacco a coprire l'unica punta fabbio ceravolo per il mister baroni in panchina c'è riccardo piscitelli michele camporese riccardo bagadur andrea de falco lorenzo del pinto marco pajac caramoco ci se enrico bri nola e brighet gamfi queste allora ci insegna ci ci sta insegnando la storia che praticamente benevento e selernitan in questa stagione sono affrontati nel coppa italia si sono affrontati affrontati in coppa italia ha vinto ai rigori la salernitana proprio a benevento proprio a benevento poi nella lega pro il 7 3 2015 in salernitana 2 a 0 mentre il 19 di 10 14 la salernitana e benevento 0 a dell'ultima volta non c'è ancora sempre le vittorie sono state sia in coppa italia che in le conere ancora in lega pro traslindale in benevento e c'è stato il primo le sempre la vittoria salernitana intanto noi andiamo a dirvi che queste questa sfida tra salernitana e benevento in serie b è per la prima volta è una questa partita in serie b proprio questo è la prima partita noi stanno le squadre per entrare in campo noi dobbiamo stanno per entrare in campo le due squadre in noi ci salutiamo con che gol live pre partita ci troviamo tra pochissimo nella direttissima tra salernitana e benevento ci troviamo tra pochissimo qui sempre su youtube sul canale di inizi al cambiato cioè per radio inizi al campionato ecco la nostra grandissima radio cronaca torniamo subito con il live di salernitana benevento di inizi al campionato ecco il live di salernitana e benevento ecco il live di salernitana